L'impulso era diventato irresistibile. C'era una sola risposta alla voce che lo torturava e così commise il suo primo assassino. Aveva infranto in più profondo e non si sentiva colpego, ne provava ansia o paura, ma libertà. Ogni ostacolo umano, ogni emiliazione che gli sbarrava la strada poteva essere spazzato via da questo semplice atto di annientamento, l'omicidio. Grazie a tutti.